Arriva la versione vitaminizzata della DR5, meglio rifinita ed equipaggiata. Più aggressiva e con cerchi in lega da 20 pollici. Anche gli interni sono stati migliorati con materiali come pelle e alcantara. Il motore è un 1.5 da 155 cavalli, con cambio CVT e doppia alimentazione benzina e GPL. I sedili sono a regolazione elettrica e il tettuccio in vetro è di serie. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!